Raddoppio Pescara-Roma, la regione decida sulla modifica del tragetto. Lo definisce l'uovo di Colombo, il senatore del PD Luciano D'Alfonso, in base all'articolo 117 della Costituzione, sottolinea la regione Abruzzo può decidere sulla modifica del tragetto che tante polemiche ha sollevato tra imprenditori e residenti. Nel locale dell'officina di Via dei Maruccini a Pescara, il senatore D'Alfonso incontra gli operatori dell'informazione per comunicazioni importanti, dice, sui progetti di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, i lotti 1 e 2 inseriti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come è noto, il dibattito pubblico è molto aperto e Luciano D'Alfonso si appella alla regione Abruzzo. Vuol dire che per quanto riguarda la localizzazione di quest'opera necessaria e attesa da decenni, la scelta della localizzazione del tracciato spetta alla regione e alle regioni interessate. Sul quadro anche dei principi fondamentali che ha già risolto lo Stato stabilendo il tipo di opera. Il tipo di opera lo decide lo Stato, ma la localizzazione dell'opera, il tracciato e competenza delle regioni, come recita l'articolo 117 della Carta Costituzionale al Terzo Comma. E quando si precisa le grandi reti di trasporto, questo evoca la legislazione concorrente, cioè una legislazione che determina la convergenza tra Stato per i principi fondamentali di indirizzo e regioni per quanto riguarda la scelta dei tracciati. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa. Su questo fronte io invito, in termini costruttivi, la regione Abruzzo ma anche la regione Lazio a fare pervenire idonea istanza a RFI e al Ministero delle Infrastrutture affinché la localizzazione del tracciato sia una localizzazione condivisa attraverso il sì degli enti locali, il sì delle due regioni e quindi la fruttuosa attività di progettazione spettante a Italfair per conto di RFI. Noi parliamo di un'opera della quale ha bisogno, le risorse finanziarie ci sono, c'è un commissario governativo che ha poteri straordinari e extraordinem, c'è un soggetto deputato alla progettazione che è Italfair, c'è una stazione appaltante che è RFI, ci sono dei suoli comunali che non possono essere trattati come zolle di terra, sono suoli carichi di vita, carichi di economia che si possono rispettare anche determinando la produzione di cantiere. Noi abbiamo la possibilità di scegliere un tracciato che faccia fare l'opera e non distrugga né la vita delle famiglie né la vita delle imprese operanti in loco. C'è l'articolo 117 che è una risorsa e poi permettetemi c'è anche un altro fatto, nel quadro economico del progetto ci sono circa il 32% di risorse e di somme a disposizione laddove emergessero bisogni in più per fare l'opera regola d'arte nel rispetto agli interessi territoriali. Quindi adesso ci mettiamo insieme, scriviamo la regione adotta un atto tipico e sono convinto che troveremo quelle correzioni che stanno nella cifra del 30% di modifiche riguardanti l'intero tracciato e non si perde tempo.